Benvenuti a Bridgewater Accur, mi chiamo Domenico Ciriani e noi presentiamo questa bella macchina, un Alfa Romeo Guglia, quattro foglio, da 2017. Questa macchina fatta in Italia va da 0 a 100 km in 3.9 secondi, e massimo velocità fino a 300 km. Allora, se volete più informazioni vai alla nostra website www.bridgewateracurant.com. Grazie.